Buonasera, buonasera a voi. Allora, ho un po' l'impressione che il mondo del dissenso così si stia un po' affievolendo. L'altro giorno, intervistando Luca Teodori, ha avuto anche modo di fargli questa domanda se lui non avesse questa impressione. Anche lui, più che un discorso sicuramente di stanca, discorsi che insomma sono abbastanza comprensibili, non è riuscito a dare una vera spiegazione che forse neanche c'è. Quello che è sicuro che ci sarebbero ancora molte ragioni per continuare ad essere presenti nelle piazze, ad opporci a quello che è un sistema che in perterito continua il suo cammino. Perché, guardate, sicuramente, e questo l'abbiamo anche sottolineato, che avere un governo di centro-destra tutela un po' di più le libertà di ciascuno di noi. Questo è un dato di fatto, anche se poi abbiamo dovuto rimarcare che però, voglio dire, le cose non sono andate esattamente come si poteva sperare in questi due o tre anni. Molte volte ci siamo soffermati su questo aspetto dicendo che questi politici, probabilmente un po' per un proprio tornaconto personale, un po' perché si sono un po' venduti al sistema, hanno fatto buon viso a cattiva sorte e non si sono così immersi in battaglie contro questa dittatura, che sicuramente era in atto per quanto riguarda gli aspetti sanitari, ma non soltanto. E ho ampiamente dibattuto in questi ultimi giorni su quella che secondo me è più che altro una strategia da parte di Giorgia Meloni, che non è proprio quello che nel suo animo lei crede e quello che lei pensa, è tutt'altro. Però questo ci fa ulteriormente capire quanto questo sistema sia potente, quanto questo sistema riesce in qualche modo ad assorbire tutto e tutti, questo almeno da un punto di vista della classe politica. Ed ecco perché sarebbe invece necessario che si continui la lotta nelle piazze. Adesso l'occasione probabilmente sarà rispetto a quello che succederà nel mese di novembre, prima e poi dicembre. A fine novembre abbiamo appunto il Consiglio di Stato che dovrà decidere sul fatto se era legittimo l'obbligo vaccinale oppure no. E capite questo è un tema estremamente importante perché a seconda di come sarà la risposta chiaramente ci saranno anche delle reazioni. Ma non riguarda poi soltanto questo perché questo è un po' l'anticamera di continuare in perteriti a toglierci quelle che sono le nostre libertà e a limitare anche la possibilità di manifestare nel momento in cui non si è d'accordo con le scelte da parte dei nostri governanti. Per quanto riguarda invece i partiti politici che avevano fatto la corsa nelle elezioni politiche del 25 settembre e sappiamo che sono miseramente finite nel nulla, qualcuno in maniera anche un po' sorprendente perché ci si poteva aspettare che almeno uno dei tre, soprattutto Italexit, ce la potesse fare invece anche Italexit è rimasta lontanissima. E i tre soggetti politici più forti si sono in qualche modo quasi sciolti come neve al sole, no? Sì, c'è Toscano che continua con la sua televisione sul web e quindi affronta anche i temi che sono cari a lui però voglio dire quelli che erano intorno a lui si sentono un po' di meno lo stesso Rizzo è un po' sparito dalla circolazione. Per quanto riguarda invece Paragone lui è presente nelle televisioni anche piuttosto spesso ma per quanto riguarda invece Italexit, a quanto so anche da persone che conosco è un po' scemato l'interesse, lui non ritiene in questo momento così di continuare con il partito magari di impegnarsi anche nelle campagne elettorali che riguardano le amministrative adesso in Lombardia, nel Lazio, almeno non sembra essere questo l'obiettivo di Gianluigi Paragone. E invece, ripeto, questo sarebbe secondo me il momento per continuare la lotta per continuare a metterci insieme e per continuare a dare fastidio a questo sistema che poi tra l'altro ci siamo talmente tanto confrontati anche aspramente voto sì, voto no, è sbagliato, è giusto io credo che possono stare insieme tutte e due le cose bisogna, ed è sacrosanto, continuare la lotta nelle piazze ma questo non esclude che avere una presenza prima o poi nei palazzi ci consenta di farci ascoltare perlomeno dall'opinione pubblica che è il vero interesse perché abbiamo visto che la piazza non è sufficiente e importante bisogna farlo, i social sono importanti ma sappiamo perfettamente che purtroppo l'italiano medio attinge le proprie informazioni dalla televisione e quindi essere presente nelle stanze dei bottoni dove conta in Parlamento quindi ci permette di arrivare più facilmente all'opinione pubblica quindi in conclusione prendiamo atto che è notevolmente scemato l'interesse e l'impegno degli italiani del dissenso nelle piazze ma questo secondo me è sbagliato noi dobbiamo continuare la nostra lotta perché loro, il sistema, sta continuando a schiacciarci non aspetta altro ci saranno altri problemi che possono essere di salute possono essere altri problemi possono essere problemi che riguardano il mondo del lavoro il mondo del sociale il mondo anche della scuola quindi ci sono molti temi che ci fanno dire che noi questa battaglia la dobbiamo continuare con queste osservazioni vi lascio vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani